Buonasera, come va? Tutti bene? Chiedo scusa signori amiche amici, amici di tutti purtroppo vi abbandono per una settimana, sono qui con mia cugina del Brasile venuta a trovarmi, la sorella di mio padre, la figlia, la sorella di mio padre e che dire, purtroppo amici miei, sarò poco qui su Facebook pubblicarò qualche foto a fine settimana che sta qui con me vuole visitare un po' i luoghi della famiglia vi ho fatto vedere il centro chiedo scusa se non mi vedete pubblicare foto, buongiorno, non mi lasciare che vi scrivo chiedo scusa ma è un periodo che questa cucina era da tanto che non la vedevo era da 24 anni che non la vedevo più o meno, 23-24 anni fa e vabbè, forse coraggio, ero qua con mio padre, ancora buon'anima adesso sono qui tornando a casa, ho le gambe a pezze, adesso farò una docetta veloce veloce e dopo me ne butto a letto a dormire che domani mattina la sveglia notte carissimo, carissima scusami, scusami che non mi faccio vedere qui in rete perché ho la cugina, purtroppo una volta tanto con mia cugina mi dicono che bella la fidanzata che hai amici miei, è la mia cugina, non è niente purtroppo mi ho detto di venire in albergo dove l'ho avuto io ma ho voluto prendere il centro mi tocca fare la camminata, questo è quanto dai, forse coraggio, si va, si cammina, faccio il pari bene se vuoi quel che l'altro ora vi ringrazio tutti, vi auguro una buona serata, buonanotte sono qui nel live al buio, sto camminando verso casa, e che dire, stanco morto dopo la settimana nella giornata lavorativa che è abbastanza, e boh, forse coraggio, vi auguro un bene, un bacione forte un bacio a tutte e a tutti, e che dire, vi voglio bene, iscrivetevi al francotone su youtube forse qualcosa su youtube verrà pubblicato, qualche video, qualche foto, insieme a lei vediamo cosa si può fare purtroppo era da tanto che non la vedevo, ho voluto partecipare, stare con lei un pochino chiedo scusa che non mi vedete molto spesso su youtube, vanno anche su facebook ora vado, che se no qua mi stirano a mirano, faccio la live del cimitero, del pronto soccorso anziché che oltre il cimitero direttamente boh, amici miei, vi auguro una buona cena, un abbraccio forte a tutte e a tutti vi voglio bene, e che dire, forse coraggio, sono un po' stanco, adesso veramente vado a dormire vi auguro ogni bene, buona serata, buonanotte, alla prossima, alla prossima settimana, adesso vediamo, farò qualche live, se riesco a fare con lei, vediamo, se vuole fare, ci vediamo dai, salutiamo così una saluta ai miei fan, e vabbè, forse coraggio dai, forse coraggio, andiamo avanti vi voglio bene, grazie di cuore per la comprensione, vi voglio bene, mi raccomando, fate i bravi mai mollare, fate i bravi, mi racconterete dopo il fine, il fine, un po' di prossima settimana dai, che, 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 che così, sta qui, e poi, forse coraggio, sono veramente stanco, sono veramente cotto, cammino su e giù, sono 30.000 passi, oggi me li sono fatti, sicuro, e vabbè, forse coraggio, un bacione, e vi voglio bene, grazie di cuore, alla prossima, ciao a tutti, buona, buona, buona serata, e buonanotte, ciao!